L'ipotesi di lei al Quirinale, eventualmente io chiedo un posto come nuovo corazziere, anche se l'altezza non è adeguata. Si chiamano le riserve della Repubblica, lei professore è una riserve della Repubblica? Guardi, se qualcuno lo propone gli mando il mio certificato di nascita. E comunque bisogna seguire sempre il motto dei francesi, le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano. Non si sollecitano e non si rifiutano, è molto interessante. Però lei sa quanto è accidentato il percorso per arrivare al Colle e sa quante candidature si bruciano, si accettano, lei si ricorderà, Marini e poi Prodi, si accettano e però poi si perdono strade facendo. Ma io so anche quanti grattacapi ha un Presidente della Repubblica e perché dovrei procurarmi dei grattacapi? Ma voi, Professor Galimberti e Professoressa Calimberti,